E mi trovo in questo momento con Samuel Murala, oggi ennesima vittoria, prima partita della stagione di ritorno. Senti una cosa, se lo chiedo in tanti, ma avete aspettato il secondo tempo per venire fuori? È stata una partita combattuta al primo tempo, chiusa in pareggio mi sembra, poi al secondo tempo si sono scaldati un po' gli animi, l'abbiamo messo a posto e l'abbiamo dilagato nel finale, però complimenti anche agli altri avversari che hanno combattuto per almeno un tempo e mezzo. Settimana prossima dei match, prima contro seconda, come la vediamo? Si siamo preparati con questa partita, adesso recuperiamo qualche acciaccato e ce la giocheremo per vincere ovviamente. Ragazzi in bocca al lupo, ci vediamo alla prossima e ciao!